Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Iniziamo dall'Angelus di Domenica, occasione in cui il Papa ha commentato il Vangelo del giorno, incentrato sulla parabola del figlio prodigo e ha ribadito che Dio ci ama oltre ogni misura ed è sempre pronto a venirci incontro e ad abbracciarci. In questa parabola, sottolineato il Pontefice, colpisce innanzitutto la tolleranza del padre dinanzi alla decisione del figlio più giovane di andarsene di casa. Così agisce Dio con noi, ci lascia liberi di sbagliare perché creandoci ci ha fatto il grande dono della libertà, un dono a confidato che mi stupisce sempre. Ascoltiamo ora un estratto delle parole del Papa. Come il Padre del Vangelo, anche Dio continua a considerarci Suoi figli quando ci siamo smarriti e ci viene incontro con tenerezza quando ritorniamo a Lui e ci parla con tanta bontà quando noi crediamo di essere giusti. Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non scalfiscono la fedeltà al suo amore. Nel sacramento della riconciliazione possiamo sempre di nuovo ripartire. Egli ci accoglie. Ci restituisci la dignità dei figli Suoi. Al termine dell'Angelus, il Papa ha voluto esprimere il suo dolore per le quattro missionarie della carità barbaramente uccise nello Yemen e l'apprezzamento invece per il progetto dei corridoi umanitari per i profughi. Le parole del Pontefice. Prego per loro e per le altre persone uccise nell'attacco e per i familiari. Questi sono i martiri di oggi. E questi non sono copertina dei giornali. Non sono notizie. Questi danno il suo sangue per la Chiesa. Questi sono vittime dell'attacco di quelli che li anni uccise e anche dell'indifferenza di questa globalizzazione dell'indifferenza che non importa. Madre Teresa accompagna in Paradiso queste sue figlie martiri della carità e interceda per la pace e il sacro rispetto della vita umana. Come segno concreto di impegno per la pace e la vita vorrei citare ed esprimere ammirazione per l'iniziativa dei corridoi umanitari per i profughi. avviata ultimamente in Italia. Sono cominciati domenica pomeriggio ad Ariccia gli esercizi spirituali per il Papa e la Curia Romana. Il Pontefice e i suoi collaboratori hanno raggiunto la Casa del Divin Maestro dove rimarranno fino a venerdì. Il servizio di Giada Aquilino dal CTV. È partito nel pomeriggio in Pullman e ha raggiunto con i suoi collaboratori la Casa Divin Maestro ad Ariccia vicino Roma dove rimarrà fino a venerdì. Papa Francesco ha iniziato gli esercizi spirituali del tempo quaresimale tenuti quest'anno dal sacerdote friulano Hermes Ronchi dell'Ordine dei Servi di Maria. Il tema è dedicato alle nude domande del Vangelo. Subito dopo la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro Papa Francesco aveva chiesto ai fedeli di pregare per lui e per tutti i partecipanti al ritiro. Come di consueto nel periodo degli esercizi sono sospese tutte le udienze compresa quella generale del mercoledì. E' tutto anche per oggi grazie per la cortese attenzione buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a giovedì.